Ciao, oggi è lunedì, 25 gennaio 2021. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo di quello che sta succedendo con TikTok, della Lombardia, che non doveva essere zona rossa, e della campagna vaccinale, che già si è arenata. Venerdì, nell'ultima puntata di Newsbox della settimana scorsa, vi avevo parlato del caso della bambina di Palermo morta soffocata secondo i suoi familiari per aver partecipato a una sfida su TikTok, la cosiddetta Blackout Challenge. Come era previsto, è iniziato il processo ai social network colpevoli di danneggiare i ragazzi. Probabilmente avrete sentito al telegiornale e letto in giro che il garante per la privacy ha bloccato TikTok. Eppure, se lo frequentate, sapete che TikTok al momento funziona come sempre. Quindi è il caso di fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo. Il blocco di TikTok è stato stabilito dall'autorità per la protezione dei dati personali, che è un organismo molto utile, il cui lavoro è controllare l'uso che le aziende fanno delle informazioni che hanno su di noi. Per intenderci, il garante privacy è l'autorità a cui ci si può rivolgere quando un call center ci telefona senza il nostro consenso. Il garante privacy aveva già messo sotto osservazione TikTok. Forse ricorderete, ne avevo parlato in una puntata precedente di Newsbox. Siccome TikTok è una app particolarmente amata dai ragazzi, anche da quelli molto piccoli, il garante aveva chiesto di sapere esattamente come TikTok tratta le informazioni sui suoi utenti minorenni. E dopo questa mossa, TikTok aveva deciso di rendere automaticamente privati tutti i profili dei minori di 16 anni. Per cui da qualche giorno, se avete meno di 16 anni, i vostri video su TikTok non sono più pubblici, ma li possono vedere soltanto i vostri amici. Dopo la tragedia di Palermo, il garante della privacy ha fatto una mossa in più e ha detto a TikTok che non può assolutamente usare i dati degli utenti dei quali non conosca con certezza l'età. Come sapete, per usare TikTok, ma anche Facebook, Instagram, bisogna avere più di 13 anni. Ma ovviamente ognuno può dichiarare l'età che vuole e TikTok, così come anche Facebook, Instagram, eccetera, non controlla. Ora il garante sta dicendo a TikTok che invece deve trovare il modo di verificare l'età di ogni utente. Non è un blocco diretto di TikTok, ma equivale a un blocco, perché TikTok al momento non ha un sistema per fare questa verifica. Nessuna app ce l'ha in realtà, tranne quelle che richiedono la carta di credito per abilitare gli acquisti. E allora resta da capire perché TikTok, nonostante questo blocco, funziona ancora. TikTok funziona ancora perché non ha sede in Italia, ma in Irlanda. E per le leggi europee sarà il garante privacy irlandese a dover eventualmente imporre a TikTok il rispetto della decisione del garante italiano. E non è detto che lo faccia. Solo se interverrà il garante privacy irlandese, TikTok dovrà adeguarsi. Spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque se avete dubbi o domande io sono sia su Instagram che su TikTok appunto. Cercate Alessio Balbi, scrivetemi lì e prometto che vi rispondo. Oggi tornano a scuola in presenza un milione di studenti delle medie e delle superiori che erano rimasti a casa o per decisione della loro regione o perché si trovavano in zona rossa. Di questo milione e più della metà, circa 600.000 sono studenti lombardi che dopo Natale avevano manifestato tanto contro la DAD, in particolare nei licei di Milano. I ragazzi della Lombardia avevano avuto anche una sentenza del TAR, il tribunale regionale, che gli dava ragione e che gli permetteva di tornare a scuola. E nonostante tutto erano dovuti rimanere a casa perché la Lombardia era finita in zona rossa, quindi con le scuole chiuse dalla seconda media in su. Ecco, ora si scopre che la Lombardia in zona rossa c'è finita per errore. E nessuno sa per colpa di chi. Ora provo a spiegarvi l'inghippo. Per stabilire di quale colore debba essere una regione ci sono molti parametri, il più importante dei quali è ovviamente il numero di contagi. Ora esce fuori che il numero di contagi attribuito alla Lombardia era molto superiore rispetto a quello reale. Il presidente della Lombardia, che si chiama Tilio Fontana, giura che la sua regione ha comunicato i dati esatti e dice che l'errore potrebbe essere dell'algoritmo, cioè della formula matematica che l'Istituto Superiore di Sanità usa per calcolare il colore delle regioni, a partire appunto dai dati che gli vengono comunicati. Ma in queste ore molti stanno rispondendo a Fontana, tra gli altri anche Beppe Sala, il sindaco di Milano, gli stanno facendo notare che l'algoritmo è uguale per tutte le regioni e l'unica regione ad aver subito l'errore è la Lombardia. Quindi sembrerebbe più facile immaginare appunto che sia stata la Lombardia a comunicare dei dati sbagliati. Comunque sia, ora la Lombardia è arancione e anche i ragazzi lombardi, anche se per ora al 50% e con i turni, possono finalmente tornare in classe. E si riapre anche per le università lombarde la possibilità di organizzare le lezioni in presenza. In chiusura facciamo rapidamente il punto sulle difficoltà del piano vaccini. Adesso a Pfizer, che come sapete già sta consegnando meno dosi in tutta Europa per potenziare uno stabilimento in modo da poter fornire più dosi in futuro. A Pfizer, dicevo, si è aggiunta anche AstraZeneca che produce il famoso vaccino di Oxford. AstraZeneca ha annunciato un taglio addirittura del 60% sulle dosi che consegnerà all'Italia nelle prossime settimane. Anche AstraZeneca ha problemi di produzione, cioè fatica a stare dietro alle enormi richieste di vaccino. Non c'è molto da dire, non è una buona notizia. Al momento l'effetto immediato di questi tagli è che le vaccinazioni per le persone con più di 80 anni, che erano le prossime in lista, slitteranno di un mese e le fiale esistenti verranno usate tutte per fare il richiamo, cioè per fare la seconda iniezione a chi già ha avuto la prima dose di vaccino. Pfizer assicura che dalla prossima settimana tornerà tutto regolare. Speriamo. Vi ricordo che l'obiettivo del piano vaccini è vaccinare tutti quanti entro l'autunno di quest'anno. Come abbiamo visto, l'autunno è il momento in cui, dopo la tregua estiva, il virus riprende forza. Quindi è proprio il momento in cui bisognerà farsi trovare preparati. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che Newsbox è anche su Alexa. Se volete potete attivare la skill e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e a domani.